Grazie 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 Sfrutta la forza di gravità il numero 10 per guadagnare velocità Riprendere così il controllo del proprio velivolo ancora Una rotazione per lui in questo istante Poi ferma l'aeroplano in direzione della zona destra del pubblico Quindi si farà vedere sicuramente dagli amici che sono alla destra della zona centrale Riprendere così fare l'aeroplano per lasciare lo spazio Il controllo della nostra destra è stato disponibile insieme al cambio di configurazione al centro Via i regali a storie che si posizionano all'esterno appunto della formazione Cambia tutta la configurazione di quella delle frecce di quelli Guardate dietro la seconda sezione La seconda sezione Andare su un'inversione Il campo di formazione di una configurazione di piramide Loro salgono a 1500 metri Si porta il volo rovescio sempre a tutti La configurazione di atterraggio non finisce qui Alla vostra sinistra Ora Mentre lui si allontana a sinistra Voi riprendete la macchina fotografica E portatela alle vostre ore 2 Cioè di fronte della foto riconoscerete Potrete misurare questa distanza Signore e signori queste sono le frecce dei colori E da sinistra vi ringrazio del vostro applauso e il suo listato Dalla voce del maestro Luciano Pavarotti Che anche oggi sentiremo E da sinistra vi ringrazio del vostro applauso e il suo listato E da sinistra vi ringrazio del vostro applauso e il suo listato A partire dalla zona centrale Della zona di volo Cioè di fronte al comandante Questo passaggio d'onore è regalato a tutti voi Sardi che ci avete invitato E come sapete La stagione delle frecce dei colori La sentiamo tutti per festeggiare i nostri 50 anni E quindi a voi e agli amici dei club Frecce Tricolori Grazie per essere qui con noi Ci vediamo alla prossima volta Grazie a tutti